Domenica prossima 8 novembre a Loreto Aprutino arriva la giornata dell'olio nuovo, un convegno al Castello Chiola al mattino ed in contemporanea visite guidate fino al pomeriggio attraverso un'azienda agricola, poi il Frantoio, il Museo dell'Olio e l'Oleoteca regionale. Si avrà così la possibilità di vedere l'intera filiera produttiva dell'olio extravergine di oliva di Loreto Aprutino, uno dei paesi con la più alta produzione di olive e di olio in Abruzzo. Il convegno dal titolo dall'oliva all'olio vedrà vari argomenti e con i relatori Leonardo Seghetti, docente dell'Istituto Agrario di Ascoli Piceno, che parlerà di una varietà un olio, caratteristiche analitiche a confronto. Gli agronomi della regione Abruzzo, Luciano Pollastri, che spiegherà la varietà in campo, scelte, potenzialità e risorsa genetica. Giuseppe Cavaliere, che parlerà di oli monovarietali, una tipicità da valorizzare. E l'agronomo vivaista Roberto Di Primio. Le conclusioni saranno affidate all'assessore all'agricoltura della regione Abruzzo, Dino Pepe.